Bella a tutti ragazzi, sono Factor Mode e sono a giocare su Scorch col cecchino, diciamo, con il Longbow Mirage vediamo Ah, non ho parlato di subito che c'è qui, non credo papà io però già qui no qua rifiuto che ero molto meglio assi burcotti pa-pa-ra-pa-pa-ra-ra-ra cazzo se non cambiavo arma gliela facevo come la chi se non li non migliore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Parcodrone alleato dello spazio aereo. Io sei ecco bastardo. C'è una doppia qui devo partita. Grande Dave, grande. Bella ragazzi, bellissima partita a bomba 21-12 col cecchino, rapporto di 1-75, un solo assist nella partita, raggiunto il livello a 30 pure. Quindi, bella Yamaha.